Ciao a tutti, come vedete sono in una sala di doppiaggio, sto doppiando questo film bellissimo che si chiama Ailo e volevo raccontarvi la storia perché è veramente molto bella, molto diciamo coinvolgente, però siccome le immagini sono così belle e la storia è così chiara quando si vede che ho pensato che qualsiasi parola avessi detto non avrebbe dato lo stesso effetto, per cui guardatevi questo trailer e poi ci vediamo al cinema sicuramente, non si può non andare a vedere una cosa così bella. Ai bambini si racconta che un cucciolo appena nato ha cinque minuti di tempo per imparare a reggersi sulle proprie zampe se vuole seguire la sua mamma. Questa è la storia di Ailo, il cucciolo che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura, incontrerà nuovi amici e affronterà incredibili sfide alla scoperta di un mondo bellissimo. Vivi insieme a lui e ai suoi amici uno straordinario viaggio attraverso le meraviglie del nord. Ailo, un'avventura tra i ghiacci, dal 14 novembre al cinema.